la valutazione finale assegnata a questo articolo diano è di 8.2 voti su un totale di 10 per questa categoria risulta al momento essere il più votato con 331 valutazioni globali le sue principali funzionalità sono facile da montare leggero robustezza se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video i tech ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8.8 su 10 è il più scontato di questa selezione i punti di forza sono facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo robustezza trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video questo articolo di help access ha riscontrato una valutazione di 8.2 su 10 totali è il più economico di questa selezione le sue qualità sono stabilità robustezza facile da montare ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo assegnato a questo articolo di i tech e di 9 su 10 risulta essere il migliore di questa selezione i suoi pregi sono facile da montare leggero ottimo rapporto qualità prezzo robustezza il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video